Abbiamo avuto una piccola defaianza, però sapete benissimo che capita sempre con FIFA, che ogni tanto ci sia un chiaro, è come se FIFA cercasse un po' di regolarizzare un po' il campionato. Comunque, buone notizie sono soprattutto arrivate per ciò che riguarda Bianchi, ma si sapeva, gol più assist, faccia rivedere, partite 6, reti 5, assist 5, la votazione partita media è dal 7,1, quindi vuol dire che almeno qualche giocatore sta funzionando abbastanza bene, per cui direi di andare avanti nella speranza magari di riuscire un po' a risollevare le cose. Nel frattempo, se ci fai vedere un attimo la posta, abbiamo programma di crescita di Zerbin, che vuol dire che c'è questo già, niente di meno, Zerbin già cresce più, è finito qui Zerbin, 81, vada di supporto, vabbè, giustamente, dici tu, che vuoi più da un giocatore così, vabbè, ci sono rimasto un po' male, dico la verità, poi mi pensavo di, allora, ne scrivo perché fanno che stiamo soddisfatti della continua tescia di Sergio Guerra, perché stiamo soddisfatti di guerra che cresce, ma io devo fare migliorare un po' del tiro, perché c'è un tiro abbastanza bassino, io non l'ho fatta diventare un'ala perché obiettivamente, 8, 8, 7, facciamo così, non l'ho fatto diventare un'ala perché effettivamente era già un po' troppo poco, nel frattempo abbiamo praticamente Sasuolo, 12 punti, il Sasuolo di solito ha il dente avvelenato con noi, quindi attenzione, Olivera, non mi ricordo i cambi che ho fatto nella scorsa partita, a questo punto, anche se pensa che Zapata ha 18 anni, io farei giocare anche un pochettino Zapata, perché a questo punto c'è anche una bella differenza, Demetrius lo facciamo sempre giocare, visto che comunque anche Demetrius è un ragazzino, vorrebbe avere 17 anni, facciamo giocare proprio i ragazzini, facciamo giocare 18 anni, Bamba, Dallino lo facciamo riposare, io la partire da Buffondia la farei fare, dai, così, Neuer si riposa un pochetto, giochiamo così, questo sia derby questo, Parma Sasuolo, sì, bello Buffond, Gigi si fa subito ritrovare pronto, assaggio che poteva andare molto meglio, ok, non ti ne andare, non ti ne andare, madonna che Zapata chiedato, madonna mia, ma chi, grande Zapata, grande Zapata, ma parca, ma questi qua, tu rau, tu rau, tu rau, tu rau, tu rau, no, vedete io, quanto devo chiamarmi, ok, vai Martini, vai, no, dammi a quell'altro, no, che ma, oh, Gigi si sta facendo trovare pronto, la seconda paratona che fa, eh, e che palle, ma dai, seguimelo, andiamo, ma quando, si salva qui il portiere, e fallo, bella palla di prima di Martin, dai, questa la miglia, qualcuno che ci crede, non deve perdere la testa, bastardo, qualcuno, ma Fabiano chi è, Fabiano, bravo Zapata, grande, e passa, eccolo, oh, e andiamo, ve l'ho detto che Zapata, continua a segnare, mamma mia, comunque, secondo me in attacco facciamo spavento, eh, cioè, a parte, quando, noi abbiamo, un centrocampo, molto, prestivo con Napoli, abbiamo giocato male, insieme perché il centrocampo, ce lo prestavano tremendamente, quando ci lasciano un po' più di spazi, non vorrei che poi, ci possa dare delle cattive, notizie, occhio, eccovi, mani, mani, oh, occhio, bravo Dragovic, e andiamo, uh, è buona, è buona, bella, bellissima, comunque, posso dire una cosa, Dragovic ha un piedino, che passaggio, e invece i Saxon, contro piede, è qualcosa di spettacolare, eh, guarda lì, allentato, bello, mamma mia, nell'angolino, là, fantastico, è buona, vai Zapatino, vai, ma che hai fatto, oh, ragazzi, dobbiamo fare i cambi, questo qua, manca un cavolo e un fallo, ce ne ci sta niente, ok, ancora sti falli inventati, ah, grande, ma la vittoria, la partita, secondo me, è difficile, però abbiamo, ottenuto dei buoni risultati, ho fatto sempre, forse, una bella figura, da tutto, alcuni punti di vista, però, continuano ad avere delle brutte sorprese, per alcuni giocatori, vabbè, non fa niente, allora, Bernabé, ho bisogno di giocare più spesso, eh, vabbè, Bernabé si sta in, Bernabé è uno di quelli che poi si incazzava, eh, quindi attenzione, quindi vediamo di farlo giocare un pochettino, offretto per la nazionale, Austria, ma non ci sta proprio sfizio, allora, facciamo così, visto che comunque, cosa sta giocando, anche spesso in classifica, siamo ritornati un pochettino a qui su, no, 17, sì, eh, allora, sicuramente, facciamo così, Martin, voglio fare una prova, mettiamo a Bernabé, di qua, mettiamo anche Olivera, e giocherei con, Turam, mettiamo Baturina, facciamo anche un pochettino riposare, facciamo riposare anche con Bamba, di qua, e a questo punto, qui, ci andiamo a mettere, Kulibaly, che è quello che praticamente, anche se sinceramente, Samaras, quanto c'è Samaras, si dice, ah no, mettiamo a Samaras, dai, vediamo come gioco a Samaras, non dovrebbe essere una partita impegnativa, bello, grande Bamba che entra, con la sua premotenza, e sbaglia subito, un fantastico passaggio, porca pu... Busticull, poi vabbè, lasciamo perdere, ma pensavo che Noyer la prendesse, perché non era tanto angolato, e tra l'altro non era manco tanto forte, era a volo, però, vabbè, cioè, fammi capire, Noyer, non ti faccio giocare una partita, e mi perdi la concentrazione, C'è, guarda lì, vabbè, ci è arrivato lento, vabbè, dai, che fa niente, nooo, che peccato, vabbè, Bianchi, vai, angolo, devo tirare forse un po' più forte, Olivera intanto sbaglia, un altro passaggio, avevamo detto che era forte, di piede invece no, ah, ok, andiamo 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 andiamo, ok, e Bernabè, è buona, devi segnare da là, dai, ok, bravo Olivera, bravo, riescono a segnare tutti, pure in attacco, bamba, bamba, ok, perché non te ne vai, no, 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 e tira, no, ma la devi tirare di prima, ma, madonna, Zerbin, manco ente, già ti mangi un gol, ah, no, eh, però ragazzi, su quella fascia, non è che possiamo fare così, dai, ah, cioè, stiamo veramente le barzellette, però, eh, piacere vederle giocare, io non me la perdo di sicuro, gran palla, niente, niente, bianchi, dai Bernabè, eh, scambiano palla, ancora pazientemente, eh, no, ragazzi, devi segnare, però, dalla, porca, di quella misera, questo posto batte subito, ah, occhio, ballone importante per chiudere la palla, no, vabbè, ma niente, dai, non possiamo vincerle tutte, lo sappiamo benissimo, il nostro obiettivo di quest'anno è quello di cercare almeno di riuscire a restare incollati nella zona Europa per cercare di avere ottimi risultati, però comunque, lo sapete benissimo, ci siamo sempre dei momenti buoni, dei momenti gattivi, si sale, si scende, comunque stiamo sempre in Europa, la cosa fondamentale è che siamo, certamente, il minasso a 25, parca miseria, già abbastanza lontanino, però, vabbè, diciamo che la zona secondo, sesto posto è un po' più, però il Milan va veramente a gonfilire, ah, abbiamo due belle partite alle, una a pressa dall'altra, eh, Fiorentina, e poi, sì, ho becchiato bene, anche Inter, vabbè, tra l'altro Fiorentina dovrebbe essere anche a nostro stesso livello, vabbè, facciamo dei cambi, così iniziamo un po', a far riposare qualcuno, sempre meglio, tipo Bianchi, lo farei entrare nel secondo tempo, purtroppo, ci abbiamo sto fatto, sto ragazzo ancora, vabbè, Coruna, vediamo un pochettino, se riesce a darci soddisfazione in questa mezza partitella, farei riposare un pochettino anche, Corazzo Calista ha giocato, beh, del Prato semmo che si fa due partite, assolutamente, Zerbin lo farei giocare, io non farei tanti cambi, perché obiettivamente siamo andati un po' in difficoltà, sotto certi punti di vista, ma non lo farei giocare al posto di Rossi, giochiamo, qua pare che ogni volta che giochiamo contro la scuola, c'è sempre un giocatore che spiega da tre partite, vai Turamo, vai, vai Turamo, oh arbitro, quando è fallo, ma voi, ah ma com'è, ah questo è fallo invece, guarda un po' questo è fallo, a ridarla subito, ah, era buona, Dario Marti, non so perché con Dario mi viene più in mente, più Diego Marti, non so perché, non ci pischiava neanche un fallo contro, non lo so, ha una grossa chance qui, attenzione, ok, forse questo è un fallo, bella Turamo, mi piace quando fai così, come no, come fai a far, madonna Danielino, Danielino, meno male, che brutta partita raga, che brutta partita, madonna santa, su quelle partite che non sai, e che fai, no, 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 non pijamo col così, non pijamo col così, vi prego, grande Danielino, e passa subito, porca, mi fanno ridere questi, mi fanno ridere questi, mi fanno ridere questi, poltipa entrare alla grande, poltipa entrare alla grande, si fa buia, comunque si inventano i falli, grande Turamo, ragazzi, quando meno te lo aspetti, un'incursione spettacolare, ma vi posso dire una cosa, Turamo è impressionante, assomiglia un po' a Dybala, così la butto lì, assomiglia, no, tecnicamente, assolutamente, di faccia, un po' così, un po' di Dybala, c'è Turamo, che giocatore, Turamo, ma ecco, l'imbecilio stava pure in fuorigioco, vai Bernabè, vai, scatta Bernabè, scatta, scatta Bernabè, dategli una mano a Bernabè, Bernabè non ce la fa, oh, sapete che non era male, il passaggio non era male, no, tutti quanti avanti state, madonna santa, buona e buona, la filosofia dei due tecnici, mi piace tantissimo, oh, oh, madonna santa, ma che ha fatto, risultato che ora è sul 3 a 0, quando intanto i minuti, Danielino, madonna che ma, aveva fatto un tiro, ammazzo tremendo, e devi segnare, che riflesso del portiere che salva la porta, questa parata vale quanto un gol, cambio dunque nella Fiorentina, resta corretta, ci devi fare segnata là, però, e che chi ha, e dai, e si si, tira, tira solita, preferisco, perché tanto ormai ho capito che, e poi, arriva Zapata, con un tiro così, ma che colo ha fatto, guarda lì, ma non è potente, è un tiro di precisione a culo tremendo, guarda lì, guarda lì, non sa manco lui che ha fatto, guarda, ormai Zapata, ok, oh, eh, ragazzi, ormai praticamente, quando ti vedi, allora, secondo me l'ha passata la palla, che è, Isakson, Corona, chi è, secondo me l'ha svirgolata, non l'ha presa, l'ha presa di capello, ma secondo me l'ha presa, non l'ha presa, non lo so, è buona, è buona, è buona, è buona, è buona, vai Zapata, vai Zapata, adesso ha tirato bene, e l'ha parato, l'altra volta ha tirato così, così, niente, vabbè dai, soddisfatti, soprattutto per il semplice fatto, che abbiamo fatto un po' di cambi fondamentali, che comunque sono importanti, anche per il studio della partita contro l'Inter, sicuramente ci sarà qualcuno, che muo' romperà le palle, perché non ha giocato, reso conto, mensile squadra, primavera, eh, ma qua purtroppo dovrò buttare qualcuno, comunque guerra, si sta facendo un po' vedere, ma, Franco qua, ha 17 anni, non lo so, sarà un po' complicato, sta classifica, siamo, quinti, venti di meno, e qui, quinti a, a 20, venti qua, ma vabbè, comunque è combattuta, parecchio combattuta, proprio tanto combattuta, e qui, Grazie a tutti.